Le Fiamme Gialle di Nocera e Inferiore hanno individuato un'attività commerciale nel Comune di Nocera Superiore dove venivano commercializzati 671 pacchetti di sigarette di varie marche, Marlboro, Merit, Chesterfield ed altre per un peso complessivo di oltre 14 kg, illecitamente detenuti per la vendita senza la prescritta autorizzazione. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera e Inferiore e segnalato all'amministrazione finanziaria per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. L'attività di servizio svolta conferma la costante presenza della Guardia di Finanza sul territorio a contrasto dei fenomeni illeciti che possono arrecare grave danno ai consumatori e ai commercianti rispettosi delle regole di mercato.